Claudio Parmigiani è la quarta mostra di questo ciclo che la Videoteca Gamma organizza e dedicato allo studio del video d'artista ai suoi inizi, tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio degli anni Settanta. Il centro, il cuore di questa mostra è l'unico video realizzato da Parmigiani che fece nel 1974 a Firenze. È un prestito prezioso che abbiamo avuto dall'archivio storico della Biennale di Venezia e che desideravo mettere in dialogo con pochissime ma precise opere. Una in particolare è l'autoritratto realizzato da Parmigiani nel 1979 che proviene dalla collezione Maramotti di Reggio Emilia.